Le ciclovie rappresentano un indotto economico turistico notevole in Europa, in Italia e in Umbria. Nel solo 2019, secondo il Sole24ore, il cicloturismo nel bel paese ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 6,1% del totale e generando una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro. In Umbria, regione evocata alla mobilità alternativa e scenario perfetto per chi intende viaggiare su due ruote, si delineano svariati tracciati ricchi di bellezze e paesaggistiche, città, paesi, luoghi densi di storia. Il sito della regione Umbria Tourism ne elenca almeno 12, dall'apprezzatissima e forse più nota Spoleto-Norcia alla ciclovia del Tevere a quella del Trasimeno lungo le sponde del lago a quella del fiume Nera. A fine anno potrà entrare nel novero di tali percorsi, dopo una gestazione piuttosto lunga, la ciclovia dell'ex Ferrovia dell'Apenino Centrale 1887-1944. L'idea del recupero del vecchio tracciato ferroviario bombardato in tempo di guerra era nata nel 2015 da parte dell'associazione Valle dell'Assino. L'idea nel corso degli anni si è sviluppata insieme alla consapevolezza della potenzialità di un'opera di tal genere che costituisce un notevole valore aggiunto per il turismo, soprattutto quello slow, ciclabile, esperienziale e che rappresenta un percorso di mobilità sostenibile ma anche di valorizzazione paesaggistica e storica. Il tratto dell'ex Ferrovia si snoda lungo la valle del torrente Assino per i primi 22 chilometri da Umbertide fino a Mocaiana di Gubbio e prosegue dunque nella valle Ugubina e in quella del Chiascio per poi raggiungere la vecchia stazione di Fossato di Vico. Oltre 50 saranno i chilometri totali del tracciato, per ora attraverso tre cantieri che stanno lavorando in contemporanea, il tratto interessato alla sistemazione è quello che va da Umbertide a Gubbio, tratto che è caratterizzato anche da due gallerie per cui si sta lavorando all'agibilità e alcuni ponti in metallo che verranno rimodulati per renderli maggiormente percorribili in entrambi i sensi di marcia. I lavori dopo la conclusione della gara di appalto stanno procedendo a ritmi serrati e termineranno a dicembre. Stamane il cantiere, aperto nelle settembre 2020, è stato visitato dal sindaco di Gubbio Filippo Stirati, dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Gubbio Valerio Piergentili, dalla presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Cristina Colaiacovo, dal presidente del consiglio direttivo di FIAB Associazione Valle dell'Assino Vittorio Fiorucci, da alcuni membri dell'associazione, dai tecnici del comune di Gubbio e dalla stampa. Di 2 milioni la cifra stanziata dalla regione Umbria per il recupero del tracciato, un milione il finanziamento della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. A nome della fondazione non posso che esprimere la nostra soddisfazione per vedere appunto giungere a compimento, parzialmente a compimento, un'opera su cui noi abbiamo creduto fortemente fin dall'inizio, perché forse ricorderete, sostenemmo nelle fasi iniziali l'associazione Valle dell'Assino per permettere di realizzare una prima progettualità. Subito dopo, concertandolo con la regione Umbria, cofinanziamo l'intervento appunto di realizzazione di quest'opera. Sono passati tanti anni perché ne stavamo ripercorrendo anche tutte queste fasi insieme ai nostri uffici e ci ricordiamo che dal 2015 sostenemmo il progetto iniziale, quindi sono passati diversi anni, però vi devo dire che è veramente oggi una grande soddisfazione per vedere questi mezzi all'opera, per la realizzazione di un'infrastruttura che noi crediamo uno snodo fondamentale e anche un'attrattiva turistica per il nostro territorio, in quanto riscopre una valle incontaminata, stupenda e che tra l'altro collega anche delle località Umbre su cui forzatamente i ciclisti dovranno fare delle tappe e quindi crediamo che sia, come sempre la fondazione ha creduto, un altro di quelle infrastrutture recuperabili che possono aiutare a creare appunto sviluppo economico per il nostro territorio. Il cantiere è in corso d'opera, entro l'anno è l'orizzonte per la conclusione dei lavori, naturalmente ci saranno delle fasi abbastanza significative soprattutto in relazione alle gallerie che vanno messe in sicurezza e consolidate, però diciamo che questa ciclovia sulla ex ferrovia rappresenta sicuramente un grande attrattore di carattere turistico, è una scelta all'insegna anche della sostenibilità e di una certa visione proprio anche di carattere paesaggistico, ambientale, ma direi che accredita anche un certo tipo di turismo che in Europa ormai si sta affermando in maniera veramente prepotente, quindi il discorso delle ciclovie, le ciclopedonali, i sentieri, i cammini, credo che per l'Umbria e per il nostro territorio, per Gubbio, rappresentino una straordinaria opportunità, anche una promozione del territorio che dobbiamo vivere sempre più in maniera integrata, tenendo insieme la montagna, la pianura, i centri storici e tutte, diciamo così, le varie opportunità che consentono di dare vita anche ad un turismo più stanziale, fatto di esperienze, di emozioni, di contatti diretti con la natura e fatto naturalmente anche dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze di qualità, della nostra gastronomia. Quindi credo che questa realizzazione, della quale ovviamente va sicuramente un fortissimo ringraziamento alla Regione dell'Umbria e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, rappresenta senz'altro un investimento per l'Umbria e per un turismo che sia sempre più di qualità e sempre di più proiettato verso un godimento del nostro patrimonio paesaggistico ambientale che insieme ai centri storici, alle bellezze, rappresenta veramente una straordinaria forma di promozione dell'intera Regione. La ciclovia rappresenterà, ha continuato il Sindaco, un grande attrattore turistico all'insegna della sostenibilità e di una precisa visione in tema di ambiente recupero paesaggistico. Questo nuovo tratto accredita di fatto Gubbio e tra i più significativi itinerari del cicloturismo europeo in una modalità di viaggio e di scoperta in perenne crescita, in termini di interesse e di attrattiva turistica. Si tratta di un filone che in Europa ormai si sta affermando prepotentemente, sentieri, cammini e ciclovie rappresentano e rappresenteranno per Gubbio e per tutta l'Umbria una straordinaria opportunità di promozione del territorio, che siamo sempre più chiamati a vivere in maniera integrata tenendo insieme montagna, pianura e centri storici. Fondamentale anche l'impegno e l'apporto di FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Associazione Valle dell'Assino, con la quale il Comune sta muovendosi in sinergia per costruire un'azione di tipo culturale e sociale che diffonda l'idea di una mobilità alternativa e sostenibile legata alle due ruote. In questo senso, proprio Comune di Gubbio, FIAB, Associazione Valle dell'Assino e Progetto Fili hanno promosso un questionario per capire e approfondire il rapporto di cittadini e cittadine o gubbine con salute, ambiente e mobilità sostenibile. A partire da domani tale questionario verrà diffuso sui social di Comune e Associazioni e sarà inoltrato tramite newsletter, così da coinvolgere il maggior numero di cittadini, ciclisti e non sul tema delle due ruote e di una mobilità più sostenibile.